Giancarlo Fusco si presenta di solito come giornalista e scrittore. Ma che cosa sei oltre che scrittore e giornalista? Io sono ex pugile, seduttore, inventore vittorie assurde, e scombattante e ovviamente ballerino. Nello stesso anno. Io ti chiamerei anche viveur se non ti dispiace. Ma non mi dispiace affatto perché tra poco sarò mortore.